Nel giorno di Pentecoste si realizza la promessa del dono che Dio fece a tutti noi, l'effusione straordinaria dello Spirito Santo. Papa Francesco, durante Regina Celi, ricorda che la Chiesa che nasce a Pentecoste non si rassegna ad essere innocua, troppo distillata, non vuole essere un elemento decorativo. Noi, proprio come i discepoli riuniti nel Cenacolo, osserva il Papa, siamo cristiani liberi e dobbiamo uscire creando scompiglio per annunciare la resurrezione di Cristo attraverso un linguaggio nuovo, quell'universale dell'amore, perché il nostro Dio è il Dio delle sorprese. Attenzione, se la Chiesa è viva, sempre deve sorprendere, è proprio della Chiesa viva sorprendere. Una Chiesa che non abbia la capacità di sorprendere è una Chiesa debole, ammalata, morente e deve essere ricoverata nel reparto di rianimazione, quanto presto quello è. Durante la Messa, nella Sollennità di Pentecoste, celebrata nella Basilica Vaticana, Papa Francesco spiega che altro compito del cristiano è di accogliere con gioia lo spirito vivificante, perché ci insegna, ci ricorda e ci fa parlare. Un cristiano senza memoria non è un vero cristiano, è un cristiano a metà strada, è un uomo o una donna prigionero del momento, che non sa fare tesoro della sua storia, non sa leggerla e viverla come storia di salvezza. Invece, con l'aiuto dello Spirito Santo, possiamo interpretare le ispirazioni interiori e gli avvenimenti della vita alla luce delle parole di Gesù. Attraverso questo maestro interiore, come il Papa definisce lo Spirito Santo, siamo chiamati ad essere canali umili e docili della parola di Dio, perché non c'è posto per i cristiani muti di anima. Infine, Papa Francesco invoca colei che definisce donna della memoria, Maria, affinché ci aiuti a vivere il comandamento dell'amore. La madre chiesa, chi parte per servire, ricordiamo l'altra madre, la nostra madre che partì con prontezza per servire, la madre chiesa e la madre Maria, tutte e due vergine, tutte e due madri, tutte e due donne. Grazie. Prodicare Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti.